Buona domenica a tutti, oggi è il 18 febbraio, sono le 11.54 e prima di andare a fare un bel pranzo fuori con amici mi sono messo a guardare con determinate nuove idee i grafici e vi parlerò di MIB e di cosa mi aspetto dal MIB con l'analisi ciclica evoluta che ormai conoscete bene perché basta digitare www.analisievoluta.com per arrivare sull'unico sito ufficiale che ne parla, è un marchio registrato, potete cliccare poi per ricevere appunti piuttosto che per valutare di iscrivervi al gruppo premium e potete andare a vedere chi siamo, vedere i video più importanti appunto fatti nel corso di oltre 7 anni di lavoro in pubblico, sfogliare che cosa dice di noi la gente di come lavoriamo, non segnalazioni false piuttosto che sono proprio schermate di gente che fa complimenti che è contenta di quello che vede, di come si lavora e di tutto il resto, piuttosto che se fa per voi oppure se non fa per voi questa analisi evoluta. Torniamo a fare un passo indietro se guardate il grafico a 15 minuti lo troverete parecchio diverso rispetto al passato perché qui avevamo un sesto t settimanale, sesto t meno 3 giornaliero come mai è comparso un terzo t settimanale? Perché mi sto focalizzando sull'aspetto volumetrico e su determinati altri aspetti che sono arrivati grazie allo studio dell'analisi con il tecnica 2 che stacca completamente rispetto al passato dell'analisi ciclica che purtroppo come vedete raramente dà dei vincoli tradabili e quindi rende estremamente più difficile il lavoro del trader e quindi dato che abbiamo dei risultati che nonostante la lateralità che avesse visto su DAX e nonostante determinati movimenti anche qui in laterale e uno che va al contrario dell'altro su Milstein stiamo facendo effettivamente più fatica su DAX invece continuiamo a portarci a casa più che la pagnotta tutti i mesi e stiamo per migliorare notevolmente con le ultime cose che ho notato grazie proprio a questa tecnica volumetrica che unisce tante cose insieme un po' come l'analisi evoluta che ha dentro GAN, Hurst, candele giapponesi e tant'altro per cui anche in questo caso 1. Vi ha aggiornato dove è il punto J quando è che smetteremo di scendere? Ci dice il punto J quando è che invertiremo questa ottima tendenza a rialzo è che per una volta dopo dal 2009 ok? Ci ha riportato sopra i 25.000 punti stabilmente e anche sopra i 30.000 se torneremo sotto questo minimo qua se torneremo sotto i 29.925 in maniera stabile ok? Per cui questo già da solo è uno dei punti di svolta diciamo che si possono avere rispetto all'analisi ciclica che non parlava di punto J solo l'evoluta ne parla è un punto GAN in cui si blocca quella che è la tendenza principale si interrompe sostanzialmente ok? in ogni caso questa centratura ha funzionato bene fino ad adesso bene io adesso ve la cambio invece e ve ne faccio vedere una su cui sono molto più convinto perché se cercate di lavorare sui T settimanali ne trovate tante di differenti ecco la mia questa è quella su cui ho appena finito di lavorare come vi dicevo qui siamo partiti dal secondo T settimanale iniziato qua siamo arrivati qui abbiamo fatto 11 barre ok? ci siamo arrivati sul grafico a 15 minuti in un altro modo con un raccordo perché è lunghissima come durata ok? e ci sono cicli che durano ovviamente meno di 8 ore ne durano 6 vanno a 24 barre per cui ovviamente ci si arriva con un raccordo è una cosa nota a chiunque e da qui è partito non solo il terzo T settimanale ma è possibile che sia iniziato anche un T più 1 primo T più 1 bisettimanale secondo tre giorni li abbiamo già di salita qualsiasi swing precedente è stato violato quindi abbiamo la certezza al 300% ok? e quindi questa è la nuova centratura una centratura per cui abbiamo sfiorato il target che vi avevo dato oltretutto volumetrico la scorsa settimana adesso il target volumetrico lo tolgo perché non siamo già in avendolo già toccato siamo già in fase short era sceso leggermente un target dinamico si muove respira quelli che sono i movimenti volumetrici del mercato per cui si aggiorna costantemente ogni istante e quindi adesso tra l'altro questo dovrebbe aiutarci a capire che cosa è che da qui a qui abbiamo avuto un 11 barre abbiamo peraltro oltretutto caspita la condizione necessaria è sufficiente per la chiusura di un mensile tutto un mensile inverso ma attenzione che è sufficiente ok? è sufficiente e abbiamo avuto due tocchi volumetrici prima il target il primo target volumetrico che vi avevo dato era qua attorno ai 31.450 4.60 toccato infatti siamo scesi poi vi ho dato questo sfiorato in realtà toccato perché era già aggiornato e siamo scesi ma non stiamo facendo tanta discesa per cui attenzione perché soprattutto se da qui partirà un nuovo bisettimanale qui avete sempre la leggenda il bisettimanale vale la metà del mensile 12 16 21 ok? noi avremmo comunque spinta questa può essere la chiusura del primo t-1 e poi si può riprovare a salire salire per fare che cosa? se si rimane sotto questo massimo per un paio di giorni e poi ci si ritorna sopra e qui noi rischiamo il vincolo a rialzo di che cosa? è di un quinto t-inverso quindi l'allarme adesso a prescindere dai volumi lo mettiamo qua a 31.945 34 945 945 945 944 giusto? ti vincolato a rialzo a far salire i prezzi ok quindi ci mettiamo questo primo allarme che è fondamentale per avere delle idee un po' come il punto j ok? quindi qui abbiamo tutta la condizione per iniziare a fare una bella discesa per un mensile inverso, però è una condizione sufficiente e non definitiva. Potrebbe essere definitiva, non lo sappiamo ancora. Vediamo. E come faremo a vedere se sarà definitiva o no? Anche qui, di nuovo, non è così semplice come magari lo faccio apparire, ma basta mettere un allarme qui a 31, 94, 98. Chiusura di T più 2. Ok. E inizio di T più 2i. Ok. Per cui, vedete, questa è una nuova dimensione di analisi che nasce anche in termini di centratura e di tutto il resto da un processo di evoluzione, di miglioramento di ciò che ha sempre funzionato bene ma che adesso non funziona più tanto bene. Perché non funziona più tanto bene? Perché come vi dicevo non si formano dei vincoli prima del tempo o se si formano sono dei cicli bizzarri che è difficile vedere, in cui è difficile credere che si possa già molto rapidamente formare un vincolo di inverso e quindi non lo si trada e oltretutto si prova a tradarlo si rischia di andare in stop loss per poi ritrovarsi esattamente a chiudere il vincolo stesso e quindi, viste queste deficienze della vecchia ciclica di Hurst e del migliorino, io mangio col trading, ho bisogno di trovare qualche cosa che mi permetta di continuare a garantirmi una vita. altrimenti diventa un'opportunità gigantesca e soprattutto questo venerdì, probabilmente l'avrete sentito nelle altre analisi, sono andato in trance su questo genere di processo di miglioramento ancora del tecnica 2 e di abbinare il tecnica 2 che funziona ottimamente a livello di statistica con il trading, a che cosa? A tutte le altre considerazioni relative alla centratura. Perché mi sento molto più tranquillo a dirvi che da qui è partito un nuovo, un terzo di settimanale? Perché ho cambiato la centratura a livello persino giornaliero e ho notato determinate cose? Perché se avrò ragione vedrete dei risultati ancora superiori rispetto al passato, vi ho già detto, vi do dei target che vengono centrati e poi si va giù, centrati e si va giù. Prima ero in grado di darvi un'idea, con Fibonacci piuttosto che con altri elementi un po' più spuntati, diciamo, di analisi di quello che poteva succedere. Adesso è diverso, adesso i target sono ancora più semplici da centrare, non soltanto più a livello di T-mino trading, quindi di trading giornaliero, su cui siamo estremamente puntuali. Chiunque sia nel gruppo premium lo vede. È una cosa che lascia stupiti e sto ancora per migliorare questo metodo, perché ci sono sempre due target con il Tecnica 2. Adesso andremo a vedere quando riusciremo ad avvantaggiarci anche del secondo target, perché mi è venuta un'idea che adesso continuerò a testare. Ed è proprio per questo processo creativo che penso che questo sia il canale di analisi evoluta più seguito in assoluto in Italia. Non ci sono canali YouTube con tutti questi iscritti, con tutti questi video quotidiani, con analisi gratuite che tornano indietro se guardiamo anche a TradingView da altre sette anni. Analisi gratuite, quotidiane. E diventare il punto di riferimento della ciclica in Italia probabilmente è una cosa che si ottiene solo ed esclusivamente quando si lavora tanto e non ci si accontenta di quello che si conosceva, che si è approfondito, che si è condito con altre nozioni come Gann, come Volumi, lo studio della volumetrica e di tante altre cose. perché noi, dato che utilizziamo l'analisi ciclica evoluta, ragioniamo sempre in termini di non sederci sugli allori e continuare in tutti i modi a trovare modi, metodi per affinare la tecnica. e come vedete i risultati parlano chiaro, target sempre centrati, analisi tutte corrette. Analisi fatte oltre 4 settimane fa, o mai 5 settimane fa probabilmente, in cui si evidenziava la possibilità di un mensile bizzarro, non canonico, fatto con un T2 più un T1 e poi rimbalzo, che si avverano, che le vedete a distanza di settimana e quanto pagano. Se la gente avesse provato a rimanere short qui, si sarebbe ritrovata qui, se non era stop loss, si sarebbe ancora sperando di... ma perché non scendono i mercati? Questa è una delle domande che mi fanno in tanti. Perché? Perché? Perché ragazzi, la lezione di Oliver Stone, quella che ci è stata data con Wall Street, sembra che in tanti non l'abbiano compresa. C'è uno scollamento totale tra economia reale e produttiva e mercati finanziari. Perché? Perché c'è la leva finanziaria. Perché ci sono gli HFT, i Frequency Trading, le cosiddette mani grosse, le mani forti scusate, non mani grosse. Quindi non guardate ai dati per capire che cosa succederà. Guardate i grafici. Sono i grafici che incorporano qualsiasi tipo di informazione, ma bisogna saperla leggere. E quindi vedremo se da qui sarà partito effettivamente il terzo t settimanale, come vi dicevo, e da dove poi sarà partito effettivamente il nuovo t inverso. Se saremo vincolati a salire, perché torneremo qui sopra, perché avremo un 1, 2, 3, raccordo, 4, 5, 6, eccetera, e continueremo a salire, oppure se avremmo avuto un 11, 12, 13, 8, scusate, 9, 10, 11 raccordo inverso e da qui partenza di un nuovo settimanale inverso. Qui abbiamo determinati elementi che ci dicono che da qui può essere partito un settimanale inverso, ma siamo ancora ai test. Quindi fate anche molta attenzione, come sto facendo vedere su Bitcoin, alle medie mobili, alla Kumo. Dov'è che andiamo ad appoggiarci? Utilizzatela come trampolino, tra virgolette, se regge. Vedete qui che fatica che si fa a continuare a scendere, ma anche a salire, perché si è entrati all'interno della Kumo. Utilizzate tutti gli strumenti che vi ho dato nel corso di anni di video e di analisi gratuite per tranne vantaggio. Vi ricordo come di consueto che questa settimana, questa prossima settimana, tra tre giorni, c'è un altro webinar con me in cui potete farmi tutte le domande che volete, non soltanto sui cicli di Bitcoin, ma in generale sui cicli, sul scostamento tra l'economia reale e i mercati finanziari. Ricordatevi soltanto che essendo in partnership con Swissquote vi converrà andare a riempire il form per potervi registrare, per poter fare anche le domande, altrimenti non potete vedere il webinar stesso, che è gratuito in ogni caso. Per cui chi avrà piacere il 21 di febbraio si prepari e si prenoti prima possibile, un po' come succederà quando vi darò la possibilità di iscrivervi per l'evento gratuito dal vivo di una giornata a Torino. Arriverà probabilmente il 19 aprile, se non mi ricordo male, ci va ancora un po' di tempo, ma inizio già a darvi qualche idea di quali saranno i prossimi programmi. Per il resto, gli allarmi li abbiamo messi, la possibilità che da qui stia partendo un nuovo ciclo inverso c'è, giusto non vi ho ancora fatto vedere questa cosa, ma lo faccio velocissimamente, qui 8 barre e vincolo, 1, 2, 3, 4 barre, ancora potenziale di salita per 2 giorni, oppure 11 più 1. Lascio aperte sempre due possibilità differenti sul grafico giornaliero e su quello a 15 minuti in modo da darvi più spunti su che cosa può succedere. Anch'io continuare a darci un'occhiata perché il periodo da inizio anno, come sapete, non è affatto semplice. Mi raccomando fate estremamente attenzione a questi mercati che non sono per niente facili da tradare. Vi ringrazio per il vostro tempo e spero che valutiate di dare un like se tutte le informazioni che vi sono state date gratuitamente vi daranno uno spunto per fare trading e se avete guadagnato grazie alle precedenti e ai target dati. Buona domenica a tutti, arrivederci!